Nuovo grave episodio di aggressione all'interno dell'Istituto Penitenziario di Taranto. A denunciarlo l'OSAP, l'organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria, nella serata di lunedì 3 gennaio l'ennesima aggressione ai danni del personale. Un detenuto avrebbe letteralmente sottratto le chiavi del reparto C1 all'agente in servizio per poi aprire alcune celle, scatenando inevitabilmente il caos all'interno della struttura. Per ristabilire l'ordine è stato necessario l'intervento di personale libero dal servizio e poi ancora l'impiego di uomini e donne della Polizia Penitenziaria coordinati dal comandante di reparto, la dottoressa Vetrano. Abbiamo raggiunto telefonicamente Angelo Sciabica, vice segretario regionale OSAP, per ascoltare dalla sua voce cosa sia accaduto. Un soggetto preso il psichiatrico che già aveva manifestato in altre occasioni dei turbamenti all'interno del reparto e ha sottratto con violenza le chiavi al collega che era in servizio all'interno del reparto e ha aperto altre stanze di detenzione che il collega ha a che fare all'interno del reparto, lui è da solo e ci sono circa una sessantina di detenuti. Grazie.